Guardate che bella oggi la stazione di Genova, Piazza Principe, ma guardate intorno il panorama visivo, ma poi vi dico dove vado oggi, è una cosa veramente da essere un piccolo artista. Ho scoperto che dal 2012 hanno scoperto la casa paterna dei nonni di Picasso, ma dov'è? Oggi è una sorpresa inedita, Picasso. Io ho fatto solo due quadri di Picasso. Sentite gli annunci. No, sempre la ristrutturazione del nodo ferroviario, ma non mi interessa. Guardate Genova, Piazza Principe, com'è bella oggi. Sono qua al binario 14 ad aspettare il treno che va a Sestri Levante. Ma dove scendo? Sori, il mio paese preferito. Partendo da Genova, Piazza Principe, passo poi Genova Sturla, eccetera, Bogliasco, c'è troppa gente, non scendo. Scendo a Sori, che è il mio paese ideale per soggiornare, perché ho trovato un piccolo luogo dove c'è una targhetta, che poi vado a vedere, che hanno abitato i bisnonni di Picasso. Sì, Picasso, il pittore del XX secolo, mi piace. E sebbene sia stato da tante tante persone giudicato troppo estroso, però in fondo in fondo ha la sua personalità. Un artista non può copiare mai la realtà di ciò che vede, ma deve riversare la sua personalità su un quadro in un altro modo. Vi faccio vedere le case esterne della stazione di Piazza Principe. Guardate quanta gente c'è. Dove sarà il mio amico Luigi? Dirò, ci siamo divisi, perché io dedico la mia vita all'arte. E infatti oggi vado a Sori, come ho detto prima, motivo esistenziale per vivere nell'arte.